Buon test a Trapani per l'Orlandina Basket. È terminata 79-76 per i padroni di casa all'amichevole di ieri pomeriggio tra le due siciliane impegnate nel campionato di Serie A2. Il punteggio è stato azzerato in ogni quarto, questi i parziali 21-19, 17-17, 20-25 e 21-15. Assente Tevin Mech, out per accertamenti, i paladini hanno giocato comunque un'ottima gara imponendo il loro ritmo di gioco. Da segnalare i 18 punti e 7 rimbalzi di Nick King con 3 triple segnate e i 13 punti di Matteo Laganà. In doppia cifra anche Gai e Vecelina con 11 punti a testa. Prima amichevole contro una formazione della stessa categoria, buoni segnali, che Orlandina è stata? Sicuramente è stata un'Orlandina che ha dimostrato di poter già da subito competere contro giocatori più esperti, più abituati a questa categoria, a questo livello e questo ci fa ben sperare per quanto riguarda poi la Supercoppa e la stagione regolare. È stata un'Orlandina che ha giocato fino all'ultimo possesso per vincere la partita, non siamo riusciti a costruire un buon tiro sul meno uno. Credo comunque che i segnali positivi visti in campo per impegno, per aggressività, per intensità offensiva si siano visti e ci facciano pensare di essere sulla buona strada. Sicuramente ne parlavo con Matteo Laganà a fine partita, siamo ancora estremamente bimbi nella fase difensiva, commettiamo delle ingenuità che a questo livello si pagano a caro prezzo e quindi sicuramente quello è l'aspetto su cui dobbiamo crescere maggiormente. Offensivamente siamo una squadra anche se giovane di talento, abbiamo tanti giocatori che possono creare, possono realizzare con facilità ma difensivamente dobbiamo fare il nostro grande salto di qualità.